Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo la differenza tra le due scarpe da trekking basse più famose di scarpa e la sportiva nel dettaglio le Rush 2 per quanto riguarda scarpa e le Ultra Raptor 2 per quanto riguarda la sportiva ma vediamo insieme cosa cambia tra queste due scarpe innanzitutto vediamo un attimo quali modelli sono disponibili sul mercato abbiamo per quanto riguarda scarpa la versione bassa e la versione mid entrambe col Gore-Tex, non esistono delle versioni senza il Gore-Tex e tutte e due con Tomaya sintetica per quanto riguarda la sportiva abbiamo la versione bassa e la versione mid naturalmente abbiamo anche le versioni senza il Gore-Tex e di entrambe le versioni basse e alte abbiamo anche la versione con Tomaya in pelle oltre che questa qua sintetica iniziamo guardando le caratteristiche di queste due scarpe partendo dalla suola qui troviamo due suole proprietarie delle case costruttrici per quanto riguarda scarpa troviamo la presa per quanto riguarda la sportiva troviamo la Frixion nel particolare la Hike 03 per quanto riguarda presa e la Frixion White per quanto riguarda scarpa questo cosa vuol dire? sono delle suole che hanno una breve durata tutte e due, ve lo dico già sono suole che a livello di durabilità durano davvero poco probabilmente quando arrivate su 500 km le avete finite entrambe quello che cambia è la tenuta, il grip nel particolare la presa di scarpa ha un grip decisamente superiore rispetto alla Frixion della sportiva la presa di scarpa ha un ottimo grip anche sul bagnato cosa che quelli della sportiva non hanno ha un miglior grip anche sul fango e soprattutto sulla roccia anche roccia particolarmente magari unta, un bagliatina tiene veramente molto molto bene la sportiva invece con la Frixion diciamo che tutto quello che è sentiero semplice va bene ma quando iniziamo a trovare un po' di bagnato, del fango un po' di roccia bagnata eccetera davvero si scivola parecchio quindi dal punto di vista della tenuta diciamo che le Rush possono andare bene praticamente dai sentieri di fondo valle fino anche allo sfasciume d'alta quota per quanto riguarda invece la sportiva vanno bene dal basso quindi dai sentieri di bassa montagna fino diciamo alla media montagna non andrei tanto sull'alta montagna perché la tenuta come dicevo non è ottima per quanto riguarda l'intersuola sono entrambi due intersuola in eva molto simili entrambi ammortizzano bene entrambi ci fanno arrivare a fine giornata senza avere il piede distrutto entrambi fanno sì che quando noi andiamo a prendere una roccia sotto il piede non sentiamo dolore alla pianta del piede diciamo che dal punto di vista dell'intersuola sono davvero abbastanza simili si equivalgono, non ci sono grosse differenze un'altra differenza molto importante è nella Tomaya come vi dicevo all'inizio le Rush 2 non hanno una versione senza il Gore-Tex mentre le la sportiva sì questo cosa vuol dire comparate entrambe col Gore-Tex diciamo che la traspirabilità è abbastanza simile ma la differenza lo fa la sportiva che avendo una versione senza il Gore-Tex fa sì di avere una scarpa molto traspirante quindi diciamo che le scarpa a livello di traspirabilità avendo questo Gore-Tex bene ma non benissimo soprattutto nei sentieri di bassa montagna si suda parecchio invece la sportiva potendo prenderle senza il Gore-Tex ci dà modo di poterla utilizzare anche sui sentieri di bassa montagna o in dei cammini in cui magari andiamo a sudare tanto a livello poi di Tomaya in sé comunque sono fatte bene entrambe io le ho utilizzate entrambe anche nella sportiva ci ho fatto davvero tantissimi chilometri non si è strappata nessuna delle due quindi comunque a livello di materiali molto molto bene per quanto riguarda il puntale su entrambi sono due puntali rigidi che se prendiamo dentro delle rocce non ci facciamo male quindi anche qua i puntali sono abbastanza simili per quanto riguarda invece il sostegno laterale entrambe le Tomaya hanno delle nervature che grazie anche al sistema di allacciatura fa sì che quando andiamo a utilizzarle anche lateralmente o prestrusciamo contro qualche radice o roccia non sentiamo dolore quindi comunque anche da questo punto di vista le Tomaya si equivalgono la terza differenza sta nel tallone i talloni sono abbastanza simili come costruzioni e geometrie quello che fa la differenza è l'imbottitura nella sportiva troviamo un'imbottitura abbastanza minimalista sono delle scarpe che quando magari camminiamo tanto lateralmente quindi col piede un po' in obliquo sentiamo che dopo un po' iniziamo ad avere dei dolori soprattutto nella parte interna del piede quindi diciamo che a lungo andare la sportiva se camminiamo su dei terreni un po' obliqui iniziano un po' a far male le Rush invece no le Rush possiamo utilizzarle anche per tanto tempo su terreni obliqui e non abbiamo nessun tipo di problema perché comunque c'è una più alta imbottitura sulla parte del tallone a livello di calzata anche queste sono molto molto simili la differenza la fa la sportiva che ha in commercio anche la versione wide dell'Ultra Raptor quindi con una pianta molto più grossa pensata proprio per chi ha un piede molto largo arriviamo dunque a capire dove è meglio utilizzare le Rush e dove l'Ultra Raptor 2 le Rush lo possiamo utilizzare praticamente ovunque dai sentieri di bassa montagna a sentieri di alta montagna perché tieni su qualsiasi tipo di terreno il mio consiglio è quello di utilizzare diciamo dalla media all'alta montagna perché comunque come dicevo non essendoci una versione non in Gore-Tex la Tomaya tende un po' a far sudare quindi se la utilizziamo a bassa quota anche facendo dei cammini sicuramente sudiamo un po' di più l'Ella sportiva Ultra Raptor invece direi dove non vanno bene le Rush quindi dalla bassa alla media montagna in quel caso lì abbiamo innanzitutto dei terreni molto più semplici dove la sua frizione non ci darà dei problemi per la sua tenuta e soprattutto magari avremo anche più caldo quindi abbiamo bisogno di una Tomaya molto più traspirante cosa che ci può dare l'Ultra Raptor quindi diciamo che dalla bassa alla media montagna meglio l'Ultra Raptor dalla media all'alta montagna meglio le Rush detto ciò ragazzi una speranza sia stato esaurente e esaustivo vi ringrazio per guardare anche questa recensione e noi ci vediamo alla prossima ciao